No alla violenza, no alle discriminazioni. Che cos'è? Sì, abbiamo pensato oggi di realizzare un'iniziativa di sensibilizzazione pubblica e questo con la Lega Navale di Crotone, questo nel caso il Presidente Gianni Eliotti, la Proloco, quindi la Presidente Maria Grazia Grande e due commissioni consigliari. Pari opportunità con la Presidente Anna Maria Oppi e la terza commissione consigliare con Antonella Passanacqua. Questo perché? Perché riteniamo che l'argomento della lotta alle discriminazioni, quindi il no alle violenze debba essere una questione di cui deve rimanere sempre alta l'attenzione con la cittadinanza e con le associazioni che sono impegnate per il nostro territorio. Oggi anche la presentazione di tre volumi da te scritti. Sì, sono dei volumi che sono stati già presentati sia in Corte di Cassazione, anche a Catanzalo e degli Avvocati qui a Crotone, ma abbiamo pensato di riproporre questi volumi, uno di diritto comunitario sull'impegno dell'Unione Europea contro le discriminazioni, uno di diritto penale internazionale sui reati culturalmente orientati e sulla violenza di genere e l'ultimo sulla libertà di pensiero, coscienza e religione in ambito ONU e Consiglio d'Europa, perché riteniamo che questi temi, specie oggi dove si parla molto di donne, anche il caso dell'Iran per esempio, è bene far restare l'attenzione su questi argomenti. Che cos'è la violenza e cos'è una discriminazione? Sì, oggi un importante dibattito, un incontro dibattito appunto qui alla Lega Navale di Crotone, la violenza, la violenza, c'è tanto da dire sulla violenza, tanto da fare e in questa giornata mi piace pensare che di violenza bisogna parlarne e la violenza bisogna prevenirla. Soprattutto in questo periodo di guerra, si parla tanto di Ucraina, Russia, ma come si combatte la violenza? La violenza si combatte con la cultura, quindi più riusciamo a confrontarci, più riusciamo a parlarne, più riusciamo a sensibilizzare e più sicuramente la violenza si combatte. Trattiamo una tematica molto delicata. Io mi onoro di presiedere una commissione alle politiche sociali, dove insieme a tutti i consiglieri comunali abbiamo modo di confrontarci in base alle tematiche. e questa è una tematica di grande spessore, perché si parla poco, perché c'è poca volta e conoscenza, perché bisogna insistere a partire dai più piccoli fino ai più grandi, perché soprattutto durante il periodo Covid abbiamo vissuto due anni di restrizioni, quindi sappiamo benissimo cosa significa privarci anche di una certa libertà, quindi la comunicazione è importante, la sensibilizzazione di fronte alle persone che soffrono. e nel pensare in questo lungo periodo di questi anni c'è molto da dire, soprattutto in merito alla violenza domestica, perché per chi riceve una determinata violenza a volte non è facile poterne parlare. Quello che si cerca di fare oggi è una rete veramente tra associazioni e tra enti soprattutto, per riuscire a fare formazione e prevenzione, quindi io da criminologa per esempio mi occupo di prevenzione, da operatrice poi dei centri antiviolenza mi occupo di quello che è l'aspetto più emergenziale della violenza, quindi la forma di intervento è l'aiuto che serve. Dovremmo però auspicarci di riuscire a fare sempre di più, per non arrivare a quelle che sono le forme più estreme poi alla fine di aiuto. La violenza è brutta in tutte le sue forme? Certo, siamo molto onorati di ospitare questa manifestazione, questo dibattito, promosso dalla Proloco. Lega Navale è sempre aperta, è un centro di cultura oramai della città di Crotone da anni, abbiamo dei protocolli di intesa anche con loro, quindi ci hanno chiesto di poter fare qua questa manifestazione e siamo stati molto ben contenti di poterli ospitare. Ma soprattutto questo, quando sono giovani noi apriamo le porte, apriamo il cuore prima e le porte dopo, perché questi giovani crotonesi che fanno queste cose così a livello alto di cultura, noi li sposiamo, li sposiamo senza alcun dubbio. Grazie.